Salve a tutti ragazzi, oggi vi spiegherò come installare e scaricare il gioco GTA San Andreas con un semplicissimo link. Prima di tutto bisogna andare a creare in programmi una cartella, quindi andiamo in risorse del computer, disco locale e programmi. Adesso creiamo una cartella e la chiamiamo Rockstar Games. Ok, adesso clicchiamoci dentro e creiamo un'altra cartella. Scusatemi ragazzi, ho sbagliato. Ok, stavo dicendo, creiamo una cartella. La chiamiamo GTA San Andreas. Ok, adesso ci manca il pacchetto, che vi metterò in descrizione il link del pacchetto di GTA San Andreas. Dovrete scaricarlo su Mega Upload. Aspettate 45 secondi e dopo fate Double Standard e salvate il file. Poi aspettate. Alla fine del download uscirà questo pacchetto. Per aprirlo bisogna avere WIRAR, quindi vi metterò anche il link per scaricare WIRAR e installarlo. Ok. Adesso dobbiamo selezionare tutto. Fare estrai. Estrai è una cartella specifica. Ok, adesso cerchiamo risorse del computer. Poi disco locale. Programmi. E adesso bisogna cercare la cartella che avevamo creato prima di Rockstar Games. Rockstar Games, eccolo qua. Poi GTA San Andreas. E poi schiacciate OK. E dovete fare finire tutto qua. Dovete far arrivare al 100%. Io l'ho già fatto, quindi annullo. Dovrebbe uscire una cosa del genere. Ecco. Poi dovete cancellare il trainer perché rovinerà il gioco. Quindi dovete schiacciare sul trainer e elimina. Ok. Adesso vediamo se va. Ecco. Il gioco è partito. Io gioco da un bel po'. Quindi vado sui miei salvataggi. Ok. E la prossima volta vi farò vedere un video come installare le Cleo. Come installare le Cleo. Ok. Vediamo adesso. Ecco. Ed ecco qua il gioco. 0% di lag. Non laga. Se voi vedete nel video che laga, ma... È per colpa di Cam Studio. Ma invece non laga. Ecco. Usciamo. Ecco. Questo è il tutorial come scaricare il gioco di San André e installarlo. Spero che avete capito tutti. Se avete qualche problema commentate. Ok? Mettete mi piace e iscrivetevi. Ciao a tutti. Ciao a tutti.